La giornata ferrarese del patinaggio a rotelle ha visto scendere in campo numerose concorrenti per il criterium delle giovani fasciste in tre prove. Quella di fondo su 6.000 metri vinta dalla Sozzi Spada di Roma, quella di mezzo fondo e quella di velocità su 400 metri vinte entrambe dalla Nicolini pure di Roma. Nel campo maschile il campione italiano Arturo Garagnani della società sportiva Parioli di Roma si aggiudicava la corsa internazionale di velocità sui 1.000 metri. Grazie a tutti.